Il governo ha confermato che quest'anno vale la presunzione del possesso dell'apparecchio televisivo se si è titolari di un contratto elettrico. Quindi tutti coloro che hanno un contratto elettrico ma non hanno un televisore in casa sono costretti a autocertificare il non possesso dell'apparecchio televisivo attraverso un modulo che troveranno facilmente sul sito dell'agenzia delle entrate e quindi dichiarare di non avere i requisiti per pagare i canonerai e quindi esserne esentati. È una procedura piuttosto complessa, una procedura che in stile perfettamente italiano presume che tu sia colpevole fino a prova contraria perché per quanto riguarda il fisco purtroppo è sempre così. Noi abbiamo ribadito che invece dovrebbe essere esattamente l'opposto, ovvero l'onere della prova spetta allo Stato e quindi è assurdo pensare che tutti coloro che hanno un contratto elettrico abbiano TV e quindi debbano pagare i canonerai. E soprattutto abbiamo sottolineato come è immorale chiedere 100 euro a chi oggi è al limite della soglia di povertà o sotto la soglia di povertà, chi è in pensione, chi non ha un lavoro, chi oggi vive fuori casa e deve magari pagare i milionari stipendi che la RAI purtroppo ancora oggi paga oppure il grandissimo patrimonio immobiliare, ben 12 miliardi di euro che la RAI possiede. Insomma è un assurdo, ancora una volta dai poveri ai ricchi e non viceversa perché questo canonerai così come è concepito è veramente una vergogna.